Il giorno recca l'audizione del dottor Antonio De Gortes, che ringrazio di aver accolto l'invito della Commissione, che riferirà sui rapporti con il dottor Davide Rossi. Io ricordo al dottor De Gortes che lei ha chiesto di essere audito dalla Commissione e quindi direi che possiamo iniziare da una sua relazione in ordine agli argomenti che riteneva di esporre alla Commissione, poi magari io mi permetterò di interrompere a formulare domande, richieste di integrazione e poi anche i colleghi, credo lei abbia un po' seguito i nostri lavori, sa e conosce il metodo che ci siamo dati all'interno di questa Commissione d'inchiesta. Io lascio allora la parola al dottor De Gortes e l'ascoltiamo con piacere. Grazie Presidente, buongiorno a lei e a tutti i membri della Commissione. Come ha ricordato, penso di essere forse l'unico audito che ha fatto una richiesta esplicita. No, ci sono tante. Già uditi? Anche già uditi, certamente. Perfetto, bene, allora non sono più solo e questo già mi accontenta. Cercherò di essere anche... Si presenti? Sì, sì, ora arrivo. In modo che tutti, magari qualcuno senese la conosce meglio, però lei ci racconta chi è, cosa ha fatto nella vita. Volevo fare una piccola premessa prima di iniziare la relazione. Chiedevo, se possibile, non lo so, chiedevo alla Commissione se era possibile non secretare la mia parte, nel senso anche nelle domande e nelle risposte, perché preferirei che ci fosse la massima trasparenza, soprattutto sulla questione dei festini. Nessun problema, nel senso che poi lei si assume la responsabilità di quello che dice. Noi spesso secretiamo, perché vengono fatti dei nomi di soggetti... 35 anni e mi prendo responsabilità... No, no, ma io come Presidente ho il dovere di ricordarlo. Sì, sì, ci mancherebbe altro. Noi lo facciamo a tutela anche di quella che può essere l'immagine dei terzi soggetti che lei coinvolge. Poi io come Presidente, siccome ho anche un dovere di tutelare i terzi, se lei va fuori dai termini accettabili, dovrò segretare, altrimenti la divulgazione e la propagazione delle informazioni, dove non fosse contenuta in termini di sobrietà e di convenienza, è anche mia responsabilità. Quindi io la invito, per quanto mi riguarda, non ho nessuna intenzione di segretare. Però allora, se lei ritiene di svolgere argomentazioni su temi sensibili e delicati, io le raccomando di essere sobrio, continente e di non esagerare, perché evidentemente la responsabilità è sua, ma per certi versi è anche mia. Grazie Presidente del richiamo, starò attento. Allora, Antonio De Gortes, 54 anni, imprenditore di Siena. Figlio del mitico aceto. Allora, ho vissuto una vita ad essere il figlio di, devo dire la verità, un po'. Poi c'è stata la parte, fin quando ha corso il palio, ero il figlio di. Poi c'è questa ultima fase, sono l'amico di, che fra l'altro è stato udito. Insomma, diciamo che mi presento come Antonio De Gortes per quello che ho fatto nel bene e nel male. Noi abbiamo un pubblico che ci segue un po' da tutta Italia, quindi non solo senese. E quindi magari una precisazione di questo genere. Mi sono occupato nella vita, a livello imprenditoriale, di diverse cose, dalla ristorazione, all'intrattenimento, ai servizi, all'immobiliare, editore. Oggi lavoro per un'azienda che ha una decina di negozi sparsi in Italia e all'estero, di abbigliamento. O è titolare? Allora, ero titolare fino a quando le Iene non hanno disturbato il mio quieto vivere. Dal 2018 ho deciso di cedere quasi tutte le mie attività imprenditoriali. Tra l'altro attività imprenditoriali che erano da anni con il cognome De Gortes nelle insegne. Ne è rimasta solo una tirana perché le Iene lì non lo seguono, per fortuna. Nel resto d'Italia si chiamano Area 9. Io sono lì dipendente, mi rimane alcune quote ancora in un locale di Castiglione della Pescaia e un'altra attività a Tenerife, che è una linea di profumi. La mia attività inizia appunto negli anni 90. Lavoro prima in una piccola televisione privata di Siena, alcuni anni. non faccio nello showman e nel presentatore, mi occupo di pubblicità. Dopodiché inizio l'attività di gestore di locali, nonostante non fosse mai stata una mia grande passione la discoteca. Ci riesco benino da essere il PR direttorino del locale, divento poi il proprietario negli anni. E da lì inizio a intraprendere attività diverse per diversificare quel settore, ristorazione, abbigliamento, immobiliare, editoria. Arriviamo agli anni 94-95 e inizia una delle mie passioni, la politica. Io fondo a Siena il primo club Forza Italia. divento dopo pochi mesi coordinatore provinciale di Forza Italia. Sono il primo degli eletti di Forza Italia alla provincia di Siena nell'anno 96. Alle prime elezioni in cui si presenta Forza Italia sono stato il più votato e vengo eletto alla provincia di Siena. ovviamente all'opposizione. Ho anche un record, forse così, anche un po' triste da un certo punto di vista. Sono anche il primo espulso da Forza Italia. Ho mai espulso nessuno. Ma hanno espulso... La giornata è combinata una grossa. La giornata è combinata una grossa e diciamo che potrebbe avere anche un legame con le chiacchiere che vengono fatte in questa commissione. Vengo espulso dopo pochi mesi, fra l'altro l'Espresso mi dedicò una pagina come primo espulso di Forza Italia, viene commissariata a Siena con coordinamento provinciale, vengo espulso perché la provincia all'epoca era una delle parti importanti di nomine ai consigli di amministrazione della banca, perché ancora non c'era la fondazione, era una banca di diritto pubblico, perciò di fatto il consiglio di amministrazione provinciale nominava all'epoca 4 membri all'interno della banca Monte dei Paschi, perciò noi consiglieri fra le varie attività esercitavamo una sorta di controllo di quello che era la stessa attività della banca, ovviamente sulle linee generali. Io ebbi una segnalazione da parte di amici che lavoravano all'interno della banca che mi dissero che all'epoca, mi sembra si chiamasse PDS o DS, non mi ricordo se al 94-95 non mi hanno cambiato, aveva stipulato un mutuo di una cinquantina di miliardi per salvare l'unità, garanzia botteghe oscure, dopo due anni non erano state pagate nessuna rata e avevano iniziato la pratica per un ulteriore mutuo di mi sembra di un paio di miliardi, si parla di lire, mi sembrava una cosa abbastanza strana che potesse accadere però, a volte in banca a Siena sono successe delle cose effettivamente un po' strane. Faccio un'interrogazione, faccio un'interrogazione al Presidente e viene fuori un casino esagerato nel senso i giornali riprendono questa questione, ve la faccio breve, dopo pochi giorni vengo chiamato a Roma e a Roma mi dicono immediatamente da Forza Italia, vice coordinatore nazionale, onorevole Querci, mi chiamano a Roma e mi dicono non ti devi più interessare nel Monte dei Paschi, consigliere provinciale d'opposizione non ci interessa, no, mi fanno capire che gli interessi del Presidente erano importanti al Monte dei Paschi e il Monte dei dei Paschi non gradiva questa attenzione mediatica che io avevo. Torno a Siena, questa operazione non mi era piaciuta, continuo in quel tipo di battaglia, dopo una settimana commissario a Siena e il De Gortes viene espulso, perciò finisce la mia fase ideologica della politica, finisce qua perché avevo 26 anni, credevo in quello che facevo, rimasi profondamente deluso e da lì ho avuto un approccio diverso dalla politica, da allora in poi. Questo per la parentesi, siamo negli anni 95, in quegli anni io già conosco ad esempio Giuseppe Mussari da almeno 8 anni, perché quando ho iniziato a lavorare in Canale 3, Mussari era l'avvocato di Canale 3 Toscana, cioè io non ho conosciuto il Mussari Presidente, ho conosciuto Mussari ne ho avvocato con il quale ci dividevano le posizioni politiche, lui all'epoca era un comunista molto convinto, io venivo prima della nascita di Forza Italia, avevo avuto un'esperienza giovanile al fronte della gioventù e questo ci separava molto dal punto di vista politico, però eravamo amici con altri interessi, soprattutto il palio e i cavalli che ci associavano. Poi nel 2004, dopo abbandonato, fra virgolette, la politica attiva, vengo nominato da un consigliere che era entrato, da un consigliere a sua volta nominato alla provincia, vengo nominato all'interno del gruppo Monte dei Paschi, qui preciso la cosa che ha già precisato Mussari a suo tempo, non mi ha nominato lui, lui ancora non era Presidente del Monte dei Paschi, mi ci ha trovato, poi mi ha rinnovato lui, però mi ci ha trovato. Vengo nominato alla Monte Paschi Belgio, dove sto circa nel consiglio di amministrazione della Monte Paschi Belgio, che era una banca autonoma di proprietà di Monte Paschi, perciò con suo consiglio di amministrazione un Presidente, un Direttore Generale, sto lì circa sette anni, considerate che questi incarichi non erano tecnici, ma erano incarichi più politici, sto lì circa sette anni, vi do due passaggi per capire il valore anche di queste nomine, sette, otto riunioni all'anno, un compenso di, io come consigliere d'amministrazione prendevo 15 mila Euro l'ordi l'anno, circa 800 Euro al mese, 200 Euro asseduta, ovviamente il viaggio pagato, se no ci si rimetteva dei soldi. Questo era il consigliere d'amministrazione di Monte Paschi Belgio. Nel 2010 vengo, dal Belgio vado alla Francia, alla Monte Paschi France, lì sto, mi sembra un anno, un anno e mezzo, anche lì il compenso era invece di 15 mila Euro, era 18 mila Euro, la differenza è che tra Bruxelles e Parigi avevo preferito la scelta andare a Parigi perché era sicuramente più interessante la banca oltre che la città, dal momento che aveva già all'epoca oltre 300 dipendenti. Nel 2011 vengo nominato come vicepresidente della Monte Paschi Leasing e Factoring, perciò nomina più importante perché dal semplice consigliere divento vicepresidente, dopo aver fatto 9 anni il consigliere dell'amministrazione, il compenso era 25 mila Euro l'ordo. Dico queste cose perché a volte si pensa che queste cose in banca portino anche delle agevolazioni economiche, per me era più importante... Più che altro era una cosa di relazioni, di rapporti... Era più importante appunto le relazioni e i rapporti perché all'epoca le mie aziende già fatturavano qualche milione di Euro e perciò insomma... Ma questo vale per lei, vale per tutti... Sì, però era... ma siccome in generale, nelle credenze generali uno dice vicepresidente Montepaschi Leasing prendeva insomma quanti soldi, erano 25 mila Euro l'ordi l'anno... Però è una carica di prestigio che soprattutto... Era per il prestigio, poi purtroppo diciamo la sfortuna in questo caso capito nella fase più complessa della banca perché si parla di una nomina del 2011, sapete e ne avete parlato anche abbastanza di tutto quello che succede poi in quegli anni, io rimango fino al 2014... In caso poi da questi incarichi amministrativi sono derivate delle azioni di responsabilità... No, nessuna, non ho avuto nessun genere di azioni di responsabilità, a differenza di tanti altri che erano nei vari consigli di amministrazione delle banche partecipate. Vorrei precisare che prima della mia prima nomina, tra le caratteristiche nel mio piccolo curriculum, a parte ecco, scusate, prima ha detto il dottor De Gortes, preciso, che è un... Ad onore me l'ha dato dottore perché io ho fatto fino alle superiori, diciamo che oltre a essermi iscritto all'università ho fatto un esame, per precisazione perché sennò poi non vorrei che qualcuno dicesse... Dicevo nel 2000, prima della prima nomina, divento presidente nazionale in Confindustria di Asso Intrattenimento, che è l'associazione psicopava delle società che gestivano eventi, trattenimenti, entro in Consiglio Nazionale di Federturismo e divento membro di giunta di confindustria con la presidenza Montezemolo. Da lì, diciamo, è servita anche questa ad egevolare la mia nomina che era un po' una sorta di rappresentanza del territorio della città all'interno dei consigli di amministrazione, visto che poi i consigli di amministrazione erano l'emanazione anche del territorio. Io ero anche presidente dei Giovani Imprenditori di Siena in quegli anni, perciò poi in futuro qualcuno, nelle varie relazioni, la amicizie legate, i legami hanno avuto, diciamo che nelle 200 nomine che la banca faceva nei consigli di amministrazione delle partecipate, 200 nomine, forse ero nella provincia tra i più titolati nel settore dell'imprenditoria locale. Nel 2014 smetto, perché Profumo ovviamente non mi rinnova come ha fatto con tutti i mussariani, il termine utilizzato da alcuni giornali presenti nei vari consigli di amministrazione, dopodiché io continuo tutte le mie attività in tranquillità fino al 2017, ma quella poi è un'altra storia che io vorrei introdurre. Noi parliamo dopo, intanto le faccio una domanda. Lei conosceva Davide Rossi? Sì, ma è nella mia relazione, se mi dà il tempo mi ero fatto una scaletta perché il problema è perfetto, non è che non vogliamo... No, 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 certo. Prego. No, no, vada avanti, vada avanti. Allora, vorrei subito iniziare con entrare subito nel primo tema, la birreria, il gruppo della birreria. Io ho anche chiesto di essere sentito perché spesso sentivo il mio nome, anche lei Presidente a diverse persone ha chiesto se conosce Antonio De Cortes. Vorrei far capire, vorrei spiegare, cercare di far capire ai nostri commissari cos'è il gruppo della birreria e chi ne faceva parte. Leggo alcuni appunti che fanno parte delle indagini fatti dalla Procura di Siena, perciò le leggo per evitare errori in qualche frase. Allora, il gruppo nasce il 19 aprile del 2012 nelle stanze della Procura di Siena. Cioè il battesimo è il 19 aprile 2012. Lo battezza, immagino chi fece la relazione, all'epoca mi sembra maresciallo Massa, e decide di chiamare un gruppo di potere che, in base a una fonte confidenziale che lui aveva sentito agiva su Siena, decide di chiamare questa indagine il gruppo della birreria. Allora, partiamo dal luogo birreria, birreria Piazza del Campo, locale abbastanza famoso, diciamo era famoso perché in quegli anni in birreria ci andavano i senesi, nel resto dei locali di Piazza del Campo erano frequentati dai turisti. Una particolarità... Di chi era la birreria? La birreria era di Andrea Bellandi, uno dei cosiddetti membri del gruppo della birreria, il proprietario, mi sembrava al minimo ci dovesse essere. La particolarità che aveva, che c'era nella frequentazione, oltre a essere il ritrovo della Siena che il giorno a pranzo, perché poi ci andavamo solo a pranzo, non la sera, il giorno a pranzo era di quelli che lavoravano negli uffici in centro. La particolarità era che noi pranzavamo in Piazza del Campo, una delle piazze più belle del mondo, a 10 euro. Perciò devo dire, siccome si erano diversi a pranzare lì con questa sorta di prezzo politico, era appetibile, perciò tutti venivano dal comune, dall'università, imprenditori, si andava in birreria perché si pagava bello, si mangeva bene e si pagava parecchio poco, tant'è che poi l'ha lasciato qualche anno, perché probabilmente questa era una politica che non aveva premiato tantissimo. Di solito a pranzo ero con Mauro Rosati, l'altro, e qui presento velocemente chi sono i cosiddetti gruppo della birreria, ripeto dai documenti della procura, Mauro Rosati, una cosa che associava tutti questi membri era una, tutti avevamo la passione per la politica e avevamo avuto delle esperienze a livello ovviamente locale, in politica. Mauro Rosati era stato consigliere comunale dei DS, inizialmente vicino a Piccini, poi passò dall'altra parte della barricata a Concenni. Attualmente da 20 anni è presidente della fondazione Quali Vita, no presidente, scusatemi, segretario generale della fondazione Quali Vita, associazione che si occupa dell'agroalimentare e della tutela dei marchi, tra l'altro alla presidenza di questa associazione ci sono stati un paio di ministri, il ministro De Castro e il ministro Martina. Attualmente continua a fare questo lavoro da 20 anni, ha ricoperto un incarico nel 2010 a Bank Anton Veneta, nel consiglio di amministrazione di Bank Anton Veneta. Poi l'altro membro della birreria era Andrea Bellandi, Andrea Bellandi è stato assessore del partito socialista negli anni 80, il gestore della birreria e anche consigliere comunale. Negli anni intorno al 2010 fu nominato membro del consiglio di amministrazione del Siena Calcio, ci rimase due anni, si dimise prima del fallimento della famiglia Mezzaroma, si mise un anno e mezzo prima del fallimento della famiglia Mezzaroma in contrasto appunto con la gestione. Poi Daniele Tacconi, attualmente Daniele Tacconi è in pensione, è stato dirigente del Monte dei Paschi, è stato vice sindaco negli anni 80 a Siena per il partito socialista e attualmente penso sia capo di gabinetto dell'attuale sindaco De Mossi. Poi nella lista della birreria c'era il mio avvocato, Roberto Martini, che a dire la verità qualche volta veniva a pranzo, ma diciamo non aveva una grossa partecipazione ai nostri incontri, aveva oltre a essere il mio avvocato, era, e qui introduco quello che era il vero gruppo politico, culturale, sociale, che non si chiamava la birreria, non si chiamava gruppo della birreria, ma si chiamava dal 2010, abbiamo fondato proprio un'associazione, si chiamava Per Siena, con sede non alla birreria, ma sul corso di Siena, in via Banchi di sopra 63, un'associazione che fece delle iniziative culturali, si occupò dell'aeroporto di Siena, nel senso era a favore dell'aeroporto di Siena, ci siamo occupati di varie iniziative e diciamo era propedeutica a una lista che avrebbe dovuto appoggiare il sindaco Cecuzzi all'elezione del 2011. Poi lì la situazione si complicò. Questa fonte confidenziale, sentita dalla procura di Siena, aveva sviluppato, aveva portato al compimento di un'indagine, l'ipotesi del reato iniziale era il 416 bis, associazione a delinquere. Capirete che quando uno legge gli atti, al momento dell'accesso agli atti, dopo un anno, un anno e mezzo, un attimino si impressiona. Tant'è il mio avvocato quando andò a vedere gli atti e lesse il suo nome nell'inizio della vicenda, devo dire, ebbe anche delle reazioni un po' scomposte, perché è uno anche un po' nervoso, toccò tranquillizzare lui più che lui e me. Perciò questa fonte confidenziale dichiarava che un gruppo di persone vicino a Mussari sfruttavano illegalmente a fine di lucro la posizione di Mussari e questi erano Roberto Martini, Maro Zorati, Andrea Bellandi, Antonio De Gortes e Daniele Tacconi. Di questi v'ho già anticipato un po' quelle che erano le caratteristiche del loro lavoro e della loro esperienza. Finisce, dopo alcuni mesi di indagine, finisce con l'esito degli accertamenti fornisce un fievole quadro indiziario, le singole fortune non possono essere certo ricondotte all'esistenza di un accordo illecito. Questo è il gruppo della berreria dichiarato poi dalla procura. Quest'indagine la faceva il dottor Natalini. Tuttavia c'è una persona del gruppo, De Gortes, che ha due rami che creano dei dubbi. Uno è l'acquisizione di immobili dal gruppo Monte dei Paschi, che poi non è vero perché il gruppo Monte dei Paschi non c'era, era stata venduta due anni prima. E l'affidamento di un ristorante, grandissimo problema, di un ristorante al fratello. La procura a quel punto decide di attivarsi nei miei confronti. Perciò il gruppo della berreria è sparito. È sparito a questo punto perché le dichiarazioni sono tali. Perciò la fonte confidenziale qui ha i primi problemi. Iniziano gli accertamenti sul sottoscritto. Il reato ipotizzato era? Il reato ipotizzato era il 323 del codice penale, turbativa di Asta, e l'altro reato, che però non mi riguardava direttamente, ma riguardava più eventualmente chi mi aveva venduto gli immobili, era l'articolo 2634 del codice civile, infedeltà patrimoniale. Il 19 d'aprile, perciò inizia il fascicolo del gruppo della berreria, l'11 febbraio del 2013, dice che questa è una data importante, perché qui poi si collega la questione anche delle dichiarazioni che Rossi farà agli amici sul gruppo della berreria. L'11 febbraio 2013, otto giorni prima delle perquisizioni da Davide, fanno le perquisizioni a me. La mattina alle 6 si presentano una decina di persone, la fanno a me, la fanno ai miei genitori, la fanno al mio fratello, la fanno al mio commercialista, la fanno nelle mie aziende, nelle macchine, sequestrano tutti gli apparati informatici. Perciò, non so se dopo dieci anni e dopo due assoluzioni esiste sempre un archivio di questo, però ci sarebbero tutti gli apparati che nel 2012 sono stati sequestrati dalla prova di Siena al sottoscritto computer, ipad, telefonini. Basterebbe solo quello per vedere intanto solo i numeri di telefono di una serie di personaggi che vengono, di cui si parla poi nei famigerati festini, per capire che non ci sono nella mia rubrica telefonia, ma né tantomeno ci sono messaggi di nessun genere, foto di nessun genere, video di nessun genere, perché come dichiarano avverbale in quell'anni è stato verificato tutto, perciò negli anni topici del problema esiste un sequestro dei miei apparati personali. Penso sia stata fatta una copia preferenza perché mi vengono poi restituiti dopo, almeno il telefonino mi viene restituito, mi sembra dopo un giorno. Perciò il 3 giugno 2013 viene fatto l'11 febbraio 2013 perquisizione a casa, il 3 giugno, a distanza di pochi mesi, richiesta di giudizio immediato nei miei confronti per turbativa d'asta. La questione degli immobili viene archiviata perché dalle dichiarazioni aveva fatto il famoso confidente, famoso e però non siamo mai riusciti a sapere chi fosse, il confidente risultano completamente inattendibili. La documentazione degli immobili che comunque io avevo comprato, non da Vime che all'epoca non era più del gruppo Montedepaschi, risultano comunque a prescindere i conguri. Qui vorrei far notare i termini dei miei rapporti con la procura della Repubblica di Siena. Quando nel 12 maggio 2016 fui assolto in primo grado perché il fatto non sussisteva con la sentenza numero 2940-12, io querelai la fonte confidenziale. Querelai mi sembrava al minimo, dopo che aveva raccontato una serie di cose su tutto il gruppo che non c'era, dopo che aveva detto che aveva comprato degli immobili con delle caratteristiche non ce la stava, dopo che era assolto dal reato che aveva apotizzato, unico reato, ripeto, avevamo avuto come famiglia un ristorante che era da due anni chiuso. Non è che c'era 20.000 persone che lo voleva, un ristorante che era da due anni chiuso e nessuno voleva. Tant'è che i primi due anni ci abbiamo anche rimesso dei soldi in questo ristorante. Un contratto da 35.000 euro, io parlo anche di cifre perché è bene capire, siccome si parla solo dei 50 miliardi di euro che sono, ho sentito parlare a mia commissione, il buco dei 50 miliardi, a volte qualcuno non sa veramente di cosa si parla. Ecco, vorrei parlare anche delle cifre che riguardano la mia persona, l'indagine che è stata fatta al sottoscritto. Comunque nel 12 maggio del 2016 vengo assolto, faccio querela, Natalini archivia la mia querela, cioè la fonte confidenziale non si indaga, perché a quel punto mi sembrava doveroso, forse dovrebbe essere primo Natalini a indagare la fonte confidenziale avendo detto delle chiare falsità. Natalini archivia sulla fonte confidenziale però fa un'altra cosa, fa appello, la procura di Siena fa appello, perciò nel 2018, il 12 luglio, il Tribunale di Appello di Firenze con la sentenza 2012-2940 conferma la sentenza di assoluzione e diciamo in una nota precisa anche alla procura di Siena che forse non era nemmeno dovuto quell'appello per come era stata la sentenza. Un altro passaggio per il rapporto con la procura di Siena e il sottoscritto è questo, quando fanno l'indagine sugli immobili la procura di Siena fa una cosa stranissima, ora lei presidente e avvocato perciò probabilmente potrà dire se è più o meno strana, più della mia esperienza, i miei avvocati mi hanno detto che era abbastanza strana, fa una lettera al Monte dei Paschi e dice stiamo facendo un'indagine, da quest'indagine risulta che forse un dipendente del gruppo Monte dei Paschi può aver commesso il reato di infedeltà patrimoniale. Siccome noi non possiamo procedere d'ufficio, se ci fate una querela, testuali parole, se ci fate una querela noi possiamo agire, cioè allora la procura della Repubblica scrive a un privato dicendo che c'è un'indagine a un privato, abbiamo trovato dei dati, se ci fate una querela agire. Ora secondo voi è il 2012, il Monte dei Paschi, Profumo legge, questa lettera gli arriva dalla procura di Siena nel 2012-2013, secondo voi la fa la querela? Certo che la fa, ci mancherebbe altro, poi viene archiviata, però per capire l'agire da parte della procura di Siena nei miei confronti. Ora qui voglio fare un inciso veloce, poi si arriva alla questione dei festini, ma questo potrebbe bastare una cosa, allora è pensabile, domando se è pensabile che il sottoscritto faceva festini con Natalini o Nastasi o Marini, cioè la mattina mi indagavano e io la sera, perché quelli erano i giorni, e io la sera ci facevo i festini, la mattina continuavano, mi facevano le perquisizioni e io magari il sabato sera mi ci trovavo con loro a delle scene eleganti. È pensabile la logica di questo? Bene, poi ci torniamo sulla vicenda festini. Diciamo che questa era la prima parte... Ho fatto venire anche a Davide Rossi magari. Sì. Eh lo so, lei ha ragione Presidente, io ho ragione, però io ho quattro anni che sono sotto il fuoco e ho una serie... Però abbia pazienza alle cose. Ha ragione. Questa è la commissione d'inchiesta, non è il suo sfogatoio rispetto a quelle che lei ritiene essere delle ingiustizie che magari lei ha subito. No, 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 io non ho subito ingiustizie, sono tutte legate poi alla questione di Davide Rossi. Siccome poi non possiamo fare una relazione che dura due ore, capito, cioè ne cerchiamo... Sì, ha ragione, però io ho sentito, mi scusi Presidente, ho sentito Piccini tre ore parlare del niente e nessuno l'ha interrotto, mi perdoni, tre ore del niente, cioè riferito a Davide Rossi, ha avuto solo una fase in cui si è emozionato e io quando ho visto Piccini che si è emozionato, nei ricordi di Davide Rossi, per poco vomito a casa, perché era il nemico, Davide Rossi era il nemico numero due di Piccini, il primo era il Mussori, il due era... Sì, però io le ho detto all'inizio di moderare i termini, adesso il termine vomito non mi piace, glielo dico fin da ora. Ho avuto dei problemi di stomaco. Ecco, lasciamo stare, cerchiamo di essere continenti a quelli che sono... Ma siamo continenti, lei mi dice che io devo, io vorrei anche... Sì, però cerchiamo di venire in particolare, io vorrei chiedere di focalizzare... Sto focalizzando, però bisogna che lei mi dia, io all'articolo 1, lettera B dell'istituzione di questa commissione, si parla esplicitamente anche di capire e indagare su tutto quello che poi nasce intorno, soprattutto alle trasmissioni, se non sa ben chiaro di quello che c'è intorno e cos'è successo, siccome, mi perdoni, ha fatto 6 o 7 domande sulla birreria lei. Sì, sì, ma io non le ho... E su Antonio De Gortes, e vengo una volta, mi faccia parlare... Però sono io che governo la commissione, sono io che governo i lavori, quindi io le... Bene, e allora non parlo, se vuole, se mi dice questo... Io direi, ci comincia a dire che rapporti lei ha avuto con Davide Rossi, se lo conosceva, quello che... Certamente era la seconda parte, devo dire che ce ne sono altre due. Allora, rapporto con Davide. Rapporto con Davide nasce alla fine degli anni 90, giovane giornalista, ha un'agenzia insieme a David Taddei che avete sentito l'ultima volta, e insieme a Maurizio Bologna, attualmente e mi sembra caporedattore a Firenze di Repubblica. Inizia quando io mi avvicino a metà... Quando, diciamo, ho raccontato la fase quando vengo espulso da Forza Italia, ci sarà una certa vicinanza politica con Piccini. Può sembrare strano, ma in quella fase Piccini era l'opposizione al partito egemone. Era dentro il partito, ma faceva l'opposizione. Tant'è che poi, tra virgolette, gliela fanno pagare con la famosa legge Visco e non va in provincia. Davide era lì con Piccini, noi iniziamo un po' a frequentarci. Probabilmente lì all'epoca si andava più alla birreria che non era di Andrea Bellandi. Ci trovavamo lì a bere un caffè, quando usciva dal comune parlavamo di politica. Chiaramente la frequentazione aumenta negli anni 2000, dal 2004 in poi, quando lui va in fondazione insieme a Mussari. Ovviamente è notorio che io sono uno degli amici più vicini a Mussari. Capita di frequentarsi partite di calcio, qualche pranzo, iniziative culturali. Di solito si parlava di palio, di cavalli, quando si era un po' tutti insieme, non c'erano nemmeno. A volte si parlava di politica con Davide. Dal 2010 in poi abbiamo istituzionalizzato i nostri incontri con Davide Rossi. C'eravamo presi un impegno ogni 15 giorni, a parte l'estate e il periodo del palio, ci trovavamo a pranzo. Tra l'altro non ci trovavamo in birreria, perché Davide Rossi in birreria è sempre venuto poco. Ci trovavamo al mio ristorante, perché poi in quegli anni io avevo il ristorante, e ci trovavamo lì al Millevini. E lì, diciamo, Davide era una sorta di consigliere di quelle che poteva essere l'attività culturale e anche l'attività politica, che l'Associazione Persiena, che era appena nata, a metà del 2010 nasce l'Associazione Persiena, Davide è un consulente esterno, chiamiamola così. L'Associazione Persiena, dove c'è un'ottantina di iscritti, non c'è quei quattro iscritti, c'è un'ottantina di iscritti, ci sono diversi professionisti, notai, avvocati, ci sono diversi dipendenti del Monte dei Paschi, diversi imprenditori, degli studenti, dei pensionati, un'ottantina circa. Quando qui, impropriamente, mi ricordo di aver sentito nell'audizione, si dice che Mussari era il finanziatore più importante di questa associazione, è sbagliato. Mussari era quello che erano i primi dieci, nel senso, io ho dato molto più di Mussari, Bellandi ha dato molto più di Mussari, Tacconi ha dato molto più di Mussari, tanto per essere chiaro, perché sembrava, se no, che Mussari fosse il finanziatore principale. No, mi sembra l'assegno suo fosse di 5.000 euro, se non sbaglio, se non sbaglio. Noi avevamo supportato molte più spese, perciò questa fase dell'associazione persiana, che qualcuno chiamava all'epoca associazione per Mussari, insomma, avrei qualcosa da ridire, anche perché avevamo uno scontro pesantissimo, il sottoscritto con Mussari, proprio sull'elezione di Ceccuzzi, perché noi non eravamo per niente convinti di candidare Ceccuzzi, però poi ci adeguammo, ci adeguammo. Perciò ci si trovava ogni 15 giorni con Davide Rossi. L'ultima volta che l'ho visto, ci sentivamo poco al telefono e men che mai messaggi, giusto per fissare l'appuntamento, però era difficile che ci fosse uno scambio di messaggi, anche che Davide è uno tutto precisino, pignolo, poi a me non piace disturbare la gente, si fissava e quando si era a pranzo si poteva parlare con tranquillità. Questi pranzi difficilmente se era io e lui soli, solitamente Mauro Rosati c'era quasi sempre con noi, a volte è venuto Andrea Bellandi, a volte veniva Daniele Tacconi, a volte anche altri amici che si aggiungevano. Ma i Mussari, Mussari a pranzi un veniva, ma come ha dichiarato anche lui, in birreria forse ci è andato di sera e non ci è andato di giorno quando c'eravamo noi, ma era un caso questo, non è che c'erano motivi specifici. Io l'ultima volta vedo Davide il primo marzo, l'incontro casualmente non era un appuntamento fissato, anzi non era fissato anche perché il primo marzo, i venti giorni prima io perquisizione, dopo nove giorni lui perquisizione, diciamo fu una fase dove, era già un paio di mesi, il casino Monte dei Paschi ci sentivamo poco o per niente, in quel momento era il per niente, ci incontrammo però davanti all'hotel Continental, l'hotel Continental si trova all'incirca davanti alla sede generale del Monte dei Paschi, piazza Salimbeni, l'inizio del corso, ci troviamo lì. Io ebbi una sensazione all'epoca, che poi però leggendo gli atti anni successivi ho cambiato, la sensazione era che David nemmeno mi riconoscesse, per quanto poteva, la valutazione uno fa dopo una settimana c'è l'evento, invece dopo che ho letto Profumo Mingrone che dice ma era preoccupato per presentazione all'aprieria, mi è venuto il dubbio, più che non mi riconoscesse, non mi avesse voluto riconoscere in quel momento, perché era un momento particolare per me, per lui e per la situazione che c'era a Siena. Io inizialmente disse ma questo nemmeno mi riconosce, si che lo fermo, lo fermo, lo vedo, insomma non lucido, non era lucido, qui vorrei fare anche, mi piacerebbe fare una parentesi sul fatto che a volte si vuole far sembrare Davide lucido in certi momenti, messaggi da appuntamenti, venga a casa, in dei momenti invece diceva come le mail scritte, diceva delle sciocchezze, perché chi poi fa certi atti solitamente così si comporta, vorrei dire, momenti di lucidità, momenti di non lucidità, questo l'ho letto, non è una mia interpretazione. Davide, iniziamo un attimo a parlare, parliamo un po' della situazione e lui mi dice subito, dopo un attimo, che si rilassa un attimino, mi dice io penso intanto che mi dovrò cercare un lavoro, ecco come ha detto, mi fa Antonio, la situazione è quella che è, ricordiamoci che il primo di marzo, il primo di marzo, era appena venuto fuori un altro problema, inizialmente, tanto poi tutti, ovviamente, sento tutta quella corrente bonista anche che è venuta qua, il problema della fuga di notizie dal Monte dei Paschi, del 28 di febbraio, cioè della causa Annomura, il popolo, diciamo, il popolo, quelli che stavano vicino anche a Davide, il sottoscritto, eravamo convinti che avesse fatto una sciocchezza Davide, cioè che avesse parlato col suo amico Peruzzi, tutti si erano convinti di questo, probabilmente non solo quelli che gli stavano vicino e non ci avevo parlato, però nella mia idea ha fatto una sciocchezza, si è fidato dell'amico e l'amico il giorno dopo è uscito sul giornale, poi gli atti dimostreranno che questo non è mai successo, ma lo dimostrano due anni dopo è morto, qui è passato 24 ore e lui era scioccato da questo, tant'è che si era andato a giustificare da Viola e da Profuma a dire no, ma io non c'entro niente, e loro gli hanno detto sì, sì, sappiamo, e te non c'entro niente. Vabbè, diciamo che così poi è riportato dagli atti, io qualche perplessità a volte anche sulle dichiarazioni che ne fanno i nostri ex amministratori, a volte le ho avute, come la lettura della mail. David è in un momento perciò perquisizione, c'è il problema della fuga di notizie, è il primo di marzo, siamo a ridosso. Incontrare me forse non gli fa piacere, perché io qui ho portato, poi per ricollegarsi, ho portato quello che scatena in Davide la preoccupazione del gruppo della birreria. Qui sono 20 articoli usciti tutti il 13 di febbraio, giornali nazionali, giornali locali, prendo il primo, quello fatto dal mio ex amico Strambi, e poi anche amiche, avete sentito qui, perché dopo questo articolo diventa un ex amico per me, perché riporta delle cose e poi in realtà non sono vere. Il titolo è Immobili e Ristoranti, l'inchiesta svela il sistema. Altri indagati, la polizia sul nuovo management. E qui si parla del De Gortes, dal cui scaturisce un nuovo filone Monte dei Paschi. Non è vero, il problema è che David legge tutti questi articoli, è il 13 di febbraio, e non è che sa che non è vero, perché non lo sa nessuno. Noi giusto aveva ancora nemmeno l'accesso agli atti, perciò non si sapeva di che si parlava. Lui tantomeno che di lavoro le studia, quello che viene scritto, si preoccupa, dice come? Mi amico, intrigato in una questione che io nemmeno conosco, è preoccupato. Cioè 20 giornali nazionali parlano del gruppo della birreria. La prima volta esce la questione del gruppo della birreria, e il gruppo della birreria è un nuovo filone di indagini sul Monte dei Paschi, che non è vero, l'indagine era su un ristorante. Però Davide anche questo non lo sa, leggi i giornali. È ovvio che si preoccupa, vista la frequentazione che avevamo. È normale, chiunque di noi si sarebbe preoccupato. Pertanto svelato l'arcano per cui era preoccupato del gruppo della birreria. Questo è, questi sono fatti, né più né meno. Poi, con Davide, vorrei far notare in quel periodo la situazione di grosso disagio in cui viveva Davide. Vabbè, è chiaramente, ma mi sembra che questo disagio sia stato poi dichiarato anche e soprattutto dai familiari. Io capisco che si possa cambiare idea sulle cose. È normale nella vita, soprattutto se poi avvengono fatti che ti portano a cambiare idea. Qui è un continuo cambiare idea. Qui cambiano idea tutti, tutti. Cioè Piccini fa un libro dove scrive che Davide si è ucciso due anni dopo la morte di Davide. Fa un libro che dice che Davide è una persona debole, mascherato da quella sorta di arroganza, non ce l'ha fatta, non ha retto di stanza. Ora Piccini l'hanno ammazzato. La famiglia, la famiglia, signori, io ho portato rispetto, porto rispetto allora, voglio precisare. Porto rispetto alla mamma, porto rispetto ai fratelli, meglio soprattutto a un fratello, Filippo, col quale ci si confronta a volte su Messenger, è quello che non è mai apparso da nessuna parte. Io sono convinto che lui in cuor suo sa come sono andate le cose. A differenza di tutto il resto, dove si cambia idea continuamente. Io immagino che tutti voi avrete avuto modo di leggere quello che dichiara la direttrice clinica psichiatria, la Liliana Loretto. Su incarico della famiglia, sulla situazione lavorativa, cioè lo stress lavorativo è il motivo del suicidio di Davide. E la famiglia fa una battaglia, secondo me giusta, i primi due anni, sull'istigazione al suicidio. Perché io sono convinto che, insomma, il Monte dei Paschi poteva fare di più, oltre che mandare la dottoressa Ciani a sentirlo, soprattutto dopo la mail di Davide. Tant'è che tutto ciò che accade poi, dopo, poteva far pensare alla questione dell'istigazione al suicidio. Infatti, nei primi anni, diciamo, le volte, le poche volte che ho incontrato Antonello, che ci siamo scritti, l'ho sempre spronata a combattere quella battaglia. Poi ci sono state le due archiviazioni, ho letto le motivazioni delle due archiviazioni. Rimango perplesso a volte, nel senso che, secondo me, un minimo di responsabilità della banca poteva esserci. Tant'è che mi risulta, questo non so se la Commissione ne ha conoscenza, che sia stata intentata una causa civile, con una richiesta abbastanza importante, proprio in questi giorni, da parte della famiglia, al Monte dei Paschi di Siena. Questo a noi non è noto, soprattutto se è una cosa così recente. Ora, magari, ecco, non mi addentro perché ho delle fonti abbastanza attendibili. Ecco, nonostante si dica che appunto si segue la strada dell'omicidio, però, anche se poi di omicidio non si parlasse, la famiglia ha fatto una causa. E questo è un po' strano, no? Si dice, ma, non si dice oggi che è omicidio e qualcuno l'ha ammazzato, però intanto si fa una causa al Monte dei Paschi di Siena, perché comunque ha vigilato poco e male. Se fosse così, sarebbe, secondo me, una gaffa doppia, oltre quella fatta a pochi mesi dalla morte di Davide Rossi, quando l'avvocato Goracci si presentò a chiedere un milione e mezzo, insieme a Antonella Tognazzi, perché poi è brutto che in una tragedia del genere si parli, ma qui poi il denaro diventa importante in tutte le questioni che seguiranno dopo la morte di Davide. Dopo pochi mesi, avvocato e Antonella si presentano al Monte dei Paschi, fanno vedere un telefonino con l'immagine della mail help, e dicono, eh signori, qui forse voi non avete vigilato abbastanza, ma se ci date i soldi famosi, ci sono verbali su questo, non è che lo dice Antonio De Gorce, ci sono verbali, è che Dio lo ha visto, poi diciamo, il Monte dei Paschi, i dirigenti del Monte dei Paschi, vanno in procura a segnalare un eventuale tentativo di estorsione, eh, non un reatuccio, non l'infedeltà patrimoniale, estorsione, poi, vabbè, la situazione si ferma lì, però la ricorrenza dell'aspetto economico è importante, perché poi in questi anni, e se ci avrò ancora un pochino di tempo, lo preciserò meglio quali sono gli altri aspetti economici che interessano il caso Rossi. Intanto, ecco, do una notizia, probabilmente c'è una causa civile che la famiglia ora ha fatto al Monte dei Paschi. Qui finisce, se so, la parte anche del politicamente corretto, non so stato, Presidente, mi ha richiamato già una volta, sì che forse, pensavo di essere stato abbastanza politicamente corretto, ora pensavo che fosse finita questa fase. No, no, io la raccomando di essere, non solo politicamente corretto, ma rispettoso, le puoi esprime i tuoi giudizi, in modo garbato e anche preciso, senza offendere. No, ci mancherebbe altro. Insomma, ora vorrei parlare del circo mediatico. No, il circo mediatico ci interessa poco. No, mi perdoni, però, no, 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 siccome ne faccio parte, mi perdoni, perché io sono stato intervistato dalle Iene. Le Iene, voi avete dichiarato, mi scusi però, Presidente, nell'istituzione della Commissione, voi dichiarate al punto B di indagare anche su quelle che sono le inchieste fatte dalle Iene quarto grado. Mi perdoni, fa parte del tema della Commissione, invito a leggere l'articolo 1 punto B. No, ma le conosciamo benissimo. Eh, ma se lo conosce benissimo, allora non mi può dire, siccome io ci sono stato dentro, siccome ho una serie di cause a favore e contro le Iene, è bene precisare, perché se non ci sono le Iene, mi perdoni e finisco, Presidente, se non ci sono le Iene, se non c'è l'inchiesta truffa che fanno le Iene, questa Commissione qui non esiste. Perciò non mi può dire, non si parla delle Iene. Allora, se si parli delle sue cause... No, delle sue cause, guardi, non ne vorrei parlare, però siccome ho contezza di cosa è accaduto in questi anni, nella truffa che è stata perpetrata a danni degli italiani, e direi anche di questa Commissione, mi dia dieci minuti... Cinque. Cinque, cinque è difficile. Allora, Iene e Quartogrado creano questa sorta di convinzione popolare italiana che Davide Rossi forse può essere stato ucciso. Si fa una Commissione parlamentare su questo. Ora, su cosa si basano queste due trasmissioni? Si basano soprattutto su dei testi, perché non c'è altro, non c'è una prova, se no avrebbero riaperto le indagini. Non c'è una prova, nonostante ci si impegni a fare, anche in Commissione delle indagini, abbastanza a volte anche fumose, mi perdoni, fumose è un termine diplomatico per quanto mi riguarda, si basa tutto su dei testi, testi che inizialmente qualcuno è anonimo, qualcuno meno. Il primo testo è Pierluigi Piccini, da dove nasce il ma. tutti i testi che poi quando vengono, Pierluigi Piccini, quando viene poi chiamato, televisione dice quello che tutti conosciamo, quando viene chiamato la procura di Genova, Pierluigi Piccini si dimentica tutto. Questi sono quelli che cercano, uno di quelli che cerca la verità, si dimentica tutto, dice, ma, forse era riferito De Festini nel 2003-2004, cioè dieci anni prima di Davide Rossi, della morte di Davide Rossi, 2003-2004, poi dice, ma non c'era la moglie avvocato di uno dei servizi segreti? Ma non mi ricordo bene, forse non sono più sicuro, nemmeno se era uomo o donna. Ora capisco che Piccini possa anche confondere l'uomo e la donna in certi casi, ma è imbarazzante. Questo è il primo testo, per cui nasce poi svariate puntate. Il secondo testo è Giovanna Ricci, ater professionista di Siena, è in Galera, no in Galera, scusatemi, è agli arresti domiciliari, è agli arresti domiciliari perché ha preso talmente tante condanni, già per diffamazione, due o tre riguardano, l'ho denunciato io, poi diversa gente di Siena. Poi un giorno si è alzata, ha comprato dell'acido, è andato dal mio avvocato, e gli ha riempito d'acido il motorino sotto il suo ufficio. Due o tre volte è entrata in negozio da me, urlando come una pazza. Bene, è l'arresti domiciliari da vari mesi, continua a scrivere in perterrita tutti i giorni su Facebook, siamo al settimo profilo bloccato, perché infatti si chiama Giovanna Ricci, ha detto, dice di tutto, di più. Fu intervistata da il condannato Monteleone, sì perché uno degli eroi di questa vicenda, una causa, una condanna intanto, una causa, una condanna. Condanna di primo grado mi pare. Condanna di primo grado, vabbè, è due anni che si parla di questa questione, una causa, una condanna, l'eroe Monteleone, insieme all'altro eroe. Però io la pregherei... No, l'eroe non lo posso, non dico più eroe. Monteleone, Monteleone. Il giornalista delle Iene, cioè cerchiamo... Il giornalista condannato delle Iene e Monteleone sul caso Rossi, su un episodio del caso Rossi, condannato in primo grado, cosa fa? Le ho raccomandato di essere continenti, non occorre che aggettiviamo. Benissimo, non aggettivo. Intervista, il test è Giovanna Ricci, la intervista, la incappuccia, e questa Giovanna Ricci gli fa vedere un messaggero, dal telefonino, io avevo mandato un messaggio a Monteleone in quei giorni, questo messaggio del signor Bip sicuramente iniziava per D e finiva per S il cognome. Un pervertito che ha la barca a Castiglione della Pescaia, si fa i festini nella sua barca con dirigenti del Monte dei Paschi, meno male, almeno questi festini c'erano le donne, perché poi nell'altro ramo dei festini si parlava di festini tra uomini. Allora, questa Giovanna Ricci, ripeto, attualmente agli arresti domiciliari, bene, viene dimenticata da Monteleone. Dieci giorni fa, un processo a Grosseto, Monteleone mi ha denunciato, mi ha querelato insieme a Mediaset per Dito nell'occhio, il mio avvocato gli chiede, ci vuol parlare di Giovanna Ricci uno dei tre testi su cui voi avete iniziato la vostra inchiesta? Non mi ricordo chi sia. Rimaniamo tutti sconcertati, sono tre testi, uno preciso, puntuale, com'è Monteleone, si è dimenticato chi ha intervistato cinque anni fa. Tutti i giornali hanno parlato di Giovanna Ricci, fra l'altro appunto che è agli arresti domiciliari e Monteleone è un attento, lo sa bene. Gli chiediamo di fornirci il girato di quel giorno. Mi dispiace, l'abbiamo distrutto. Bene, queste sono le risposte di chi cerca, di chi è il cardine, uno dei cardini della ricerca della verità. Ora, su questi signori che cercano la verità e ogni volta che vanno davanti a un giudice si avvalgono della facoltà di non rispondere, mi permettete di dubitare un po'? Tutti cercano la verità e poi Piccini si dimentica, Monteleone non risponde al segreto professionale, Pierangelo Maurizio non risponde al segreto professionale, tutti so per la ricerca della verità. Però, poi, quando è il momento di aiutare le indagini, nessuno lo fa, solo in televisione si fa. Poi c'è il terzo, teste, è la moglie dell'avvocato, del colonnello Aglieco, che è stata condannata in primo grado ad Arezzo, tra la condanna che ha avuto in primo grado c'era anche la diffamazione. Ha già parlato Aglieco di sua moglie, perciò non mi allungo se no mi finiscono i minuti. Il quarto teste è quello utilizzato da quarto grado. Se vedete il video quella sera ci fu un grosso scoop, il super testimone dei festini senesi. Inquadrano, questa volta hanno avuto il buon gusto di non coprirlo con un cappuccio e c'è proprio lui in persona che va, si chiama Massimo De Luca, conosciuto tossicodipendente spacciatore senese, attualmente ha gli arresti a Sollicciano, Firenze. Il signor Massimo De Luca subito dopo la trasmissione, perché poi questi fenomeni che si sentono in trasmissione su cui si basa quest'inchiesta, poi la Ricci l'acido. Il signor De Luca che attualmente è nelle patrie galere, qui c'ho l'originale, dei bigliettini che mi metteva a casa. Caro Toni, è arrivato per te il momento di rifare conti con la vita, sei già morto dal mio punto di vista e io non sono Davide Rossi. Isabelle Bertoncini, Luselli Molin Camargo, è tempo di morire, preparati cretino, super testimone, questo è il super testimone di questo grado. Questi sono alla procura, le copie ovviamente sono state perché ha avuto chiaramente delle denunce, questi documenti sono depositati presso la procura di Siena, no a Genova mi scusi, perché di competenza poi essendo, parlava anche dei magistrati, è andato tutto, è tutto a Genova nel fascicolo. Che esito hanno avuto queste qualele? Rinviata a giudizio, c'è un processo, però già nel frattempo lui ha, aveva accumulato il problema del spaccio di droga, aveva una condanna e questo che poi farà riflettere, almeno rimane anche agli atti di questa commissione, a questo signore quando gli vanno a fare la perquisizione aveva il porto d'armi, questo scrive queste cose, aveva il porto d'armi, vanno a, e gli trovano solo una delle due pistole e l'altra dice l'ho persa. Si sa tutti che uno fa la denuncia prima, in quel caso non vale al bobbietto della perquisizione, viene denunciato e mi sembra prende un anno per non aver dichiarato che aveva perso, però permettetemi il dubbio di non sapere dove è stata persa questa pistola, un personaggio del genere che dieci giorni fa ha scritto delle lettere con minacce di morte all'avvocato Martini, minacce di morte al figlio, da sollicciano e ha scritto e ha scritto al procuratore Marini con minacce di morte a lui e alla figlia, questo è successo dieci giorni fa Massimo De Luca che dopo ormai una vicenda che è di 3-4 anni che lui ha gli arresti mi sembra che abbia bisogno di cure, però era il super testimone di quarto grado, l'altro super testimone è in galera stranamente cioè di 6 o sono l'arresti miocinari o sono in galera che è William Correa il famoso omicida della colombiana della prostituta colombiana che sia quarto grado infatti Pierangelo Maurizio si adombrò su questo sia le iene perché lo utilizzarono anche le iene e la prima un cenitura era di quarto grado avevano raccolto delle segnalazioni che questo William Correa aveva dichiarato aveva partecipato ai festini che c'erano video c'era tutto sapete bene ci sono state delle indagini su questo e ovviamente anche questo è meritorio di cure all'interno degli istituti di sorveglianza dove è è l'affidabilità di un altro dei test importanti poi c'è l'ultimo lo lascio per ultimo io non vedo l'onorevole Borghi non c'è oggi peccato mi sarebbe piaciuto affrontarmi anche con lui su questo lo lascio per ultimo è Matteo Bonaccorsi al momento per me è solo un mitomane le dichiarazioni della procura della Repubblica di Genova dicono che è completamente inaffidabile per me dico è solo un mitomane non dico altro perché ovviamente ci sono una serie di querele nei suoi confronti fatte un po' da tutti è imbarazzante quello che dichiara e quando Presidente lei lo so che mi dice anche di stringere su questa cosa ma capisce che questo signore ha diffamato inter persone cioè noi viviamo da anni con un personaggio personaggio che fra l'altro ricopre una sorta di ora incarico politico no è più tecnico non è politico un incarico si ricopre un incarico su scelta di un politico su scelta di un politico che è lecito e libero di fare certo ci sa abbiamo anche chi sceglie di fare il portaborse magari ha esperti in shatsu probabilmente non possiamo sindacare certo non possiamo sindacare però mi perdoni Presidente faccio solo questo ma un politico che quando ovviamente sceglie quella persona non sa di che cosa si parla ma un politico dal punto di vista logico etico di opportunità proprio politica il giorno che legge nei giornali il nome di Matteo Buonaccorsi che partecipava ai festini si parlava si ho capito ma non è sindacabile è strano allora glielo dico io è strana e qui forse la commissione potrebbe appunto indagare meglio sul personaggio Matteo Buonaccorsi mi auguro che ci sarà una procura e prima o poi lo chiama in un tribunale perché per ora non so come mai si riesce a scamparla fra l'altro qui vorrei fare un appunto tra i primi sentiti c'è il procuratore di Genova sono due anni che è stato archiviato il procedimento nei confronti dei magistrati e casi sono due o magistrati hanno fatto i festini l'abuso d'ufficio tutto quello che c'è hanno detto di no e bisognerà indagare quei signori che però l'hanno dichiarato e l'hanno detto allora perché è strano dopo quattro anni che ci siano indagini aperte cosa c'è da indagare dopo quattro anni su una trasmissione del 2019 questi sono argomenti che soprattutto il suo avvocato farà valere abbiamo fatto tutte le azioni del caso lascio perdere il risultato la prima cosa che hanno fatto hanno spostato immediatamente le mie denunce a Grosseto appena fatto come si dice i suoi avvocati che sono bravi sapranno coltivare ma infatti ho detto prima o poi lo porteremo lo porteremo lo porteremo in tribunale ricordi sempre che c'è sempre la causa civile oltre a quella penale sicuramente sicuramente Matteo Bonaccorsi mi avrà per tanti anni nella sua vita e come mi penso anche tanti altri dopo le dichiarazioni false 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 che ha fatto prive di qualsiasi fondamento allora arriviamo un po' a Festini che è interessante altri cinque minuti poi cominciamo con le domande sì sì certo arriviamo ai Festini io non ho mai partecipato a Festini di droga e sesso mai mai io non sono mai stato a Residence San Luigi allora io ho operato a Siena come ho detto nel settore dell'intrattenimento della ristorazione Siena è provincia è piuttosto piccola è casuale ho organizzato tanti eventi io non ci sono mai stato non ci ho mai organizzato nemmeno un evento vent'anni fa non conosco San Luigi se non ora poi da internet o dalle foto che Bonaccorsi ha pubblicato dicendo quando era al matrimonio della cucina perché ovviamente si è ricordato del posto ma non si è ricordato che tre mesi prima della sua intervista ha fatto un matrimonio a San Luigi io non ho mai parlato con Natalini mai io non ho mai conosciuto non ho mai parlato perdono non ho mai parlato con il colonnello Aglieco prima del 2018 ci conosciamo grazie alle Iene siamo sullo stesso carro e ovviamente poi da lì ci frequentiamo ci sentiamo spesso e ci confrontiamo su tutte le novità dopo la commissione ci sentiamo anche dopo la sua commissione ci siamo sentiti dopo l'audizione dopo l'audizione di Aglieco in commissione non sono mai stato a cena né con Dona Campa né con il ministro Tremonti perché il Giulio di cui si parla che però nessuno ha mai sentito lui perché ex ministro ci mancherebbe altro Tremonti mai non ci sono mai stato tanto meno ho mai conosciuto Matteo Bonaccorsi mai mai visto la prima volta che lo vedo è nelle foto su Instagram dopo esce fuori il suo nome e ribadisco come è possibile che io possa aver partecipato a festini che non esistevano che non esistevano se forse esistevano il genere di festini per come ho conoscenza io del territorio della città dei personaggi anche se non partecipavo ne sarei stato a conoscenza che c'erano questi festini ma non c'erano quel genere di festini dove partecipavano politici imprenditori personaggi altolocati della chiesa della procura non c'erano a Siena non c'erano e com'è possibile che io potessi partecipare a dei festini con Natalini ripeto che la mattina mi indagava e mi voleva mandare in galera e la sera ci facevo i festini e i giochini questa è follia follia e ha portato a una distorsione di quella è la realtà e qui mi dispiace solo un fatto che sia Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi ci sono dentro ora fino al collo in questa situazione e non basta e non basta il dire noi si cerca la verità per Davide no signori perché qui si cerca forse altre cose non la verità per Davide perché all'attenzione di questa commissione vorrei portare anche un altro aspetto e forse la domanda potrei farla anche a lei direttamente Presidente in quanto avvocato qualora qualora si riaprisse il caso il caso Rossi come omicidio ovviamente devono avere fuori delle nuove cose non trattate per ora mi sembra di aver visto di nuovo veramente il niente assoluto qualora venisse fuori delle cose nuove si aprisse un caso d'omicidio e poi si richiudesse dopo circa un anno senza né muovente né mandante né assassino assassini le due assicurazioni vita di Davide Rossi verrebbero pagate cose non sono state pagate con il suicidio verrebbero pagate personalmente da quello che mi dice qualche esperto dice sì perché ovviamente dopo dieci anni ci sta che se uno è stato ucciso non si sa qual è il movente il mandante però si è riaperto il caso non più come suicidio ma come omicidio gira qualche milione di euro di risarcimento su questa questione primo aspetto quando parlavo dell'aspetto economico c'è la causa civile c'è quella intentata ci sono i libri sul caso Rossi ci sono le puntate delle Iene perché Monteleone prendeva prendeva un tot a puntata non è stipendiato si sa bene più puntate si fa meglio è concludo veramente concludo ho fatto una riflessione sul fatto che fosse omicidio anche io perché poi a volte mia madre mi c'è voluto tre settimane per convincere dopo che aveva visto le prime due puntate delle Iene per convincere mia madre mi c'è voluto tre settimane immagino per convincere il resto che fosse un suicidio se fosse un omicidio però qui saremmo di fronte al più grosso complotto perpretato nella storia repubblicana e forse anche prima perché almeno 60 persone dovrebbero essere all'interno di questo complotto 12 magistrati tra procuratori e magistrati una ventina di poliziotti una decina di carabinieri una decina tra dirigenti e manager del monte dei paschi e tutto questo complotto per coprire quelle potrebbe essere questo ormai voce di popolo voce di dio omicidio eccellente all'ombra del monte dei paschi l'ha detto della comunicazione ruolo fondamentale in quella è la finanza del monte dei paschi e tutto ciò che ha complottato ha ordito per organizzare questo si è affidato dal punto di vista della comunicazione di là c'è Mediaset si è affidato a dito nell'occhio un blog fatto dal De Gortes con suo amico che ha una telecamera perché i poteri forti la massoneria la scia servizi segreti qui ci devono essere tutti per fare una cosa del genere hanno utilizzato il De Gortes con dito nell'occhio per spiegare che non è un omicidio ma è un chiaro suicidio cioè poteri forti è dito nell'occhio e quelli che cercano la verità è Mediaset bene vi ringrazio sono disponibile alle vostre domande da prima che si è iscritta a parlare è un'ora grazie presidente prima se mi permette un intervento sull'ordine dei lavori perché anche come componente dell'ufficio di presidenza ha il mio massimo sostegno nella gestione da parte sua presidente di questa commissione come ha sempre fatto in maniera corretta nei confronti sia degli uditi sia dei commissari di questa commissione e quindi volevo che rimanessi agli atti insomma della commissione in maniera ufficiale e seconda cosa i componenti di questa commissione conoscono molto bene il contenuto della legge che è stata votata dal Parlamento nell'istituzione di questa commissione d'inchiesta contenuto della legge che sempre lei presidente ha sempre fatto rispettare in tutti i suoi articoli e commi nell'espletamento delle varie audizioni fino ad oggi effettuate venendo ora alle domande volevo chiedere all'audito perché non ho capito bene di cosa parlava con il Rossi perché inizialmente ci dice parlevamo di questioni politiche però poi mi sembra che abbia fatto un'analisi sua personale anche di quali potevano essere le motivazioni che hanno indotto il Rossi a fare un atto sostanzialmente di cui poi questa commissione si sta occupando quindi non ho capito se effettivamente parlavano solo di politica oppure se con il Rossi c'erano anche delle confidenze diverse non c'era nessuna confidenza diversa nel senso dal punto di vista personale o intimo in quanto con Rossi il rapporto come ho precisato subito all'inizio si parlava di calcio di contrade e di politica a volte di politica legata alla banca punto lei conosceva la famiglia del Rossi io la famiglia quale quella di sangue entrambe entrambe conosco conoscevo il fratello Filippo perché abbiamo avuto siamo stati tifosi del Siena insieme tante trasferte in curva insieme conosco conoscevo bene Antonella Tognazzi perché quando ero presidente dei giovani imprenditori lei era nella segreteria di confcommercio e diciamo abbiamo avuto modo di frequentazione amichevoli conosco non bene e nemmeno frequentato Carolina Orlandi ma siamo della stessa contrada perciò l'ho sotto gli occhi tutti i giorni del palio tornando alla sua vita un po' professionale di cui lei ci ha fatto un excursus forse è scappato a me il passaggio chi è che la propose la nominata all'interno delle di Monte dei Paschi del Belgio e Monte dei Paschi France allora mi sembrava di averlo specificato però lo ridico il territorio allora tra gli enti nominanti nei consigli di amministrazione c'è nella fondazione c'è anche le associazioni di categoria io ero presidente dei giovani imprenditori io ero presidente dell'associazione nazionale di confindustria le associazioni di categoria segnalarono il mio nome che venne recepito dal qui mi potrebbe aiutare l'onorevole scenni ancora mi ricordo un lapsus il professor che è stato anche in consiglio di amministrazione della banca diversi anni nominato dalla provincia il professor degli anni 90 non la provincia la fondazione all'epoca all'interno c'era anche le istituzioni economiche segnalarono perché segnalano il mio curriculum insieme a altri curriculum al professor ci sono stato in consiglio di amministrazione in Francia fra le altre cose insieme poi dopo ma non mi ricordo che era un componente della fondazione che era un componente del consiglio di amministrazione della banca perché poi è la banca che è chiaro la fondazione è proprietaria della banca la fondazione la segnalazione che veniva fatta negli organi nei vari consigli di amministrazione doveva rappresentare il territorio si ma comunque ho fatto politica anche di territorio sostanzialmente la provincia ha indicato esatto ora se mi viene in mente poi ridico il nome preciso relativamente alla sua attività lavorativa lei ci ha detto che ha svolto attività lavorativa in Italia e all'estero e ci ha parlato di Tenerife e poi Albania Tirana e basta questi sono i due posti finito Presidente Donore Cenni c'era uno che fa Enrico però non lo vedo più grazie grazie Presidente la ringrazio per per la presenza del signor De Gortes è stato diciamo molto puntuale nella nella sua presentazione le faccio qualche domanda che è sostanzialmente un po' una richiesta di rappresentarci un po' anche qualche sensazione qualche idea che si è fatto su questi anni e su questa dolorosa vicenda anche io vorrei vorrei chiedergli appunto dei suoi rapporti con di entrare anche un pochino più dentro ai suoi rapporti con Davide Rossi lei ha parlato appunto di questi incontri che facevate in maniera abbastanza puntuale ogni 15 giorni nell'ultimo anno nell'ultimo anno sì vorrei appunto che ci raccontasse di più dei suoi rapporti con Davide anche a livello magari personale e ha già risposto la mia collega sui rapporti sulla famiglia quindi non ci torno e vorrei capire diciamo qualcosa di più proprio sui contenuti di questo rapporto perché lei ha detto che stavate parlando appunto dell'associazione Persiena quindi di questo scenario che guardava le amministrative di quegli anni lì e poi ha fatto questo passaggio parlando dell'incontro casuale del primo marzo in cui ha detto ho avuto quasi la sensazione che non fosse contento di avermi incontrato e lei racconta di una persona evidentemente diversa da quella che lei incontrava ogni 15 giorni può raccontare un pochino meglio ecco dall'ultima domanda i suoi rapporti e poi la differenza diciamo che lei ha ricavato almeno dal punto di vista delle sensazioni allora sicuramente cioè io l'analisi che non fosse contento di avermi incontrato il primo marzo non l'ho fatta subito l'ho fatta a distanza di qualche anno quando ho letto ribadisco o Mingrone o Profumo parlano della famosa cena del 28 febbraio dove dice Davide a cena ci aveva detto che era preoccupato per i suoi rapporti con il gruppo della birreria lì mi è tornato in mente in quel momento lì preciso avevo considerato solo che Davide fosse fuori di testa perché aveva un comportamento che non era non era Davide poi piano piano si è sciolto perché noi lì siamo stati lui dove lui aveva mi ricordo che aveva un appuntamento con un giornalista il primo di marzo era tarda mattinata poi piano piano si è sciolto e si ricorda con quale giornalista? no perché non me l'ha detto una cosa mi ha detto che in quel momento devo dire mi impermalosi un po' a un certo punto dove si era parlato un po' gli dissi ti accompagno in giù non si dice così a Siena quando si fa il corso lui doveva andare a incontrare questo giornalista ti accompagno in giù e lui mi fa no meglio che non ci vedano insieme e qui io come stavo fino ho detto va bene va bene ciao Davide dai ci si vede i prossimi giorni purtroppo questo è il ricordo nemmeno bellissimo che ho dell'ultimo momento per quanto riguarda sempre quel giorno lui mi accennò al fatto del lavoro questo fatto del lavoro che è minimizzato dalla banca per ovvie ragioni secondo me che è minimizzato da chi è anche però è venuto fuori anche da altre audizioni questa sua preoccupazione sì certo ma è venuto fuori guardi io vi posso raccontare un aneddoto di qualche giorno fa che mi è stato riportato dal professor Luca Fiorito che è stato in consiglio dell'amministrazione della banca e professore alla LUIS di Roma e all'università di Palermo amico conoscente di Davide Rossi diciamo perché all'epoca fra l'altro scriveva dei libri economici per il Monte dei Paschi perciò diciamo aveva dei rapporti frequenti con Davide alcuni giorni fa parlandoci mi ha detto ma io mi ricordo di un incontro avvenuto a febbraio del 2013 a Roma di aver visto Davide in delle condizioni io non l'avevo mai visto barba incolta stravolto che girava nei corridoi di Roma con un passamontagno o qualcosa e gli copriva il volto tant'è che la segretaria scusi nei corridoi di Roma in che segretario? della LUIS di Roma c'era un convegno dove Davide doveva partecipare o accompagnava o doveva poi parlare non mi ricordo questo me l'ha detto Fiorito ma potete sentirlo lui dove la segretaria del corridoio della LUIS dove Davide Rossi girava con questa sorta di o cappello fino o passamontagne andò a chiamare Fiorito e gli disse scusi ma questo personaggio lei lo conosce? e lui andò da Davide no no scusa e si tolse questa cosa dal viso dice io ho trovato una persona che non era non era Davide Rossi e si conosceva dopo un po' un minuto mi fece subito una domanda ma qui alla LUIS di Roma secondo te Luca possono aver bisogno uno che si occupa di comunicazione come me con la mia esperienza e lì richiarì questo fatto che aveva dubbi perplessità sulla questione del lavoro poi se qualcuno mi fa domande ci sono delle mie sensazioni rispetto a chi l'ha tradito alla cazzata che ha fatto tutte cose scritte dove io penso di sbagliare di poco penso reputo allora continuiamo per me nelle valutazioni fatte anche vedendo gli atti l'amico che l'ha tradito è Valentino Fanti perché è quello che parla con la procura ma che è un tradimento così non è un tradimento però secondo me è lui perché parlando con la domanda di Natalini gli dice ma chi è la persona che può unire vigni e mussari ai quali tutti e due danno del tu qui all'interno della manca e lui dice ce n'è uno solo nemmeno lui era ce n'è uno solo è Davide Rossi che il fatto che l'ha tradito perché grazie purtroppo a questo vanno a fargli la perquisizione a casa la cazzata a me sembra ovvia è la mail help ma vi immaginate una situazione del genere con il casino che c'è con tutti i dubbi su Davide Rossi perché in banca avevano dei dubbi su Davide Rossi era l'ultimo dei mussariani lì dentro e prima se lo toglievano meglio era secondo me uno che scrive all'amministratore delegato e gli dice se non mi aiuti mi ammazzo poi è ovvio che Davide in momenti era lucido ovviamente era lucido quando incontra Muzzi quando alla mamma gli dice delle polpe è normale ma tutti quelli che poi hanno avuto quel tipo di percorso tragico alternano quei momenti è notorio questo e lui chiaramente in un momento di lucidità dice ho fatto una cazzata cioè uno scrive all'amministratore delegato in quel momento dove rischia secondo me già il lavoro immaginate dall'altra parte l'amministratore delegato che si trova una mail del genere dice ma questo che affidabilità ci dà tant'è che il giorno dopo ci va la Ciani che non sarà un caso sul giorno dopo tornavo ho divagato i pranzi allora nel particolare allora con Davide Rossi non abbiamo mai avuto confidenze fra virgolette personali ma questo mai nemmeno prima che lui entrasse al Monte Paschi allora con Davide Rossi come di Mussoli non si parlava mai di donne nel senso l'argomento quello boccacesco e goliardico che si fa tra gli amici non c'era l'argomento a non toccare cosa invece noi gli altri amici era uno degli argomenti si parlava del calcio si parlava del palio argomenti per noi importanti in quella città all'epoca anche ora e si parlava di politica politica intesa come gestione del potere della città e politica anche di alcune scelte che faceva la banca ma poco con Mussari per niente se ne parlava con Davide Rossi poco perché comunque quello che era poi il suo lavoro lui tendeva a non trattare l'argomento nonostante ci fossero ripeto non c'era un'amicizia derivata dalla persona per esempio con Antonella con la famiglia io la conoscevo me di più prima che si sposasse con Davide Rossi che dopo che si è sposata e poi diciamo ci siamo un po' più persi ecco sulla questione politica posso accennare diciamo che Davide Rossi in quella fase cercò di mediare tra me e Mussari Mussari voleva che si appoggiasse Cecuzzi a prescindere noi non volevamo appoggiare Cecuzzi perché di fatto lui non voleva noi cioè non eravamo graditissimi come gruppo per Siena e faceva bene fra l'altro nella sua analisi drammaticamente non volle che si candidasse né Bellandi né De Gortes in lista Cecuzzi cioè dovevamo fare la lista non vollero la lista dovevamo mettere una persona nella lista come indipendenti del PD non vollero i due nomi mettemmo alla fine il nome di un'avvocatessa di Siena Francesca Vognaini che fu eletta con i nostri voti e dopo pochi mesi fu l'artefice della caduta del Cecuzzi perché la maggioranza si basava su un voto e lei andò contro il nostro parere degli amici che l'avevano letto perché noi a quel punto volevamo mantenere Cecuzzi contro il nostro parere andò votò contrario al bilancio e fu commissariata Siena Lei ha parlato diffusamente della vicenda Festini che anche attraverso varie audizioni e trasmissioni è stato chiamato in causa e ha parlato di questa fonte confidenziale da cui partono una serie di indagini ma lei si è chiesto perché per quale ragione può essere stato tirato in ballo il suo nome un suo ipotetico ruolo legato poi in qualche modo da racconti testimonianze trasmissioni in collegamento diciamo anche alla vicenda di cui noi ci stiamo occupando è abbastanza semplice allora partiamo dal mio profilo organizzatore di feste in discoteca per 30 anni come ho detto a Monteleone a pagamento nel senso che io organizzavo feste e mi pagavano per quello amico di Mussari di Rossi cioè del giro che fra virgolette contava in quella città sì un profilo mai basso il mio io non sono mai stato ecco questa era una delle cose che 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 spesso mi mi accusa per esempio Mussari il mio profilo è sempre stato un problema perché eh sono uno che affronta difetto le questioni volte a volte poi esagero tant'è che nell'affrontare il problema dal 2017 ad oggi delle Iene mi sono ricavato anche qualche denuncia e ciò tre o quattro procedimenti più o meno in corso condanne condanne zero per ora solo Monteleoni sul caso Iene l'ha presa no parliamo in generale che nessuna con eroe per qualcuno commissione per ora è l'unico condannato c'è lui io condanne zero ho avuto tanti personaggi che mi hanno che hanno detto di me di tutto di più occhio con quel relato nella questione però il problema è che in una città dove purtroppo è bene avere un profilo basso non è una questione né di classe né di altro però dove gran parte degli abitanti lavorano al monte dei paschi gli impiegati cioè uno che un pochino esce dalle righe dove poi la barca la macchina grossa le feste uno che non ha mai nascosto niente di quello che ha fatto è una città dove a volte anche l'invidia va un po' oltre è normale che si vada a prendere tanti sono stati contenti di queste vicende soprattutto delle dienne eh vedi ora almeno sta più fermo no non rientra nemmeno questo nelle mie caratteristiche ancora prima di fermarmi insomma ci vorrà un po' penso sia il motivo principale è questo una piccola cittadina dove l'invidia la fa da padrone io non ho fatto niente per non attirarmela e devo dire la verità secondo lei è possibile è immaginabile che Davide Rossi diciamo potesse avere informazioni documenti quindi potesse detenere segreti diciamo che potrebbero motivare l'interesse di qualcuno a provocarne la morte mi perdoni se sorrido su questa questione ma Davide Rossi si occupava di comunicazione all'interno della banca comunicazione cioè è drammatico io abbia sentito in qualche audizione qualcuno che ha detto ma i finanziamenti lui si occupava anche eh di mutui cioè mi so sentito male solo a sentirlo purtroppo era qualche membro di commissione e l'ha detto probabilmente ancora non aveva studiato bene il caso Davide Rossi si occupa di comunicazione esperto d'arte di finanza non sa niente niente tant'è che i derivati penso gli siano stati spiegati qualche mese prima che cosa erano Davide ma quali segreti si vola cioè quali segreti poteva sapere di quella banca la banca gli hanno fatto non so quante indagini non so quante migliaia di pagine documenti non so quante intercettazioni ci sono state in quegli anni anche derivanti da altri procedimenti prima della questione perché io ricordo che e agli atti anche del gruppo della birreria era già due anni che la procura aveva sotto intercettazione il telefono di Mussari sulla questione dell'aeroporto di Ampugnano non hanno mai trovato un dialogo un colloquio che riguardasse una questione tecnica del Monte dei Paschi poi Davide si occupava delle sponsorizzazioni il budget era un budget di circa 40-50 milioni ma una banca che era il terzo gruppo bancario italiano un budget di 40-50 milioni era un terzo o un quarto di Unicredito o di Intesa San Paolo come valore e di questi 40-50 milioni di cui si occupava Davide l'80% di fatto era indirizzato dal Consiglio di Amministrazione cioè lui non ci metteva proprio mano tutto quello che andava al Siena Calcio e quello che andava alla Menzana Basket lui faceva una relazione ma tanto avevano deciso in Consiglio di Amministrazione che dovevamo finanziare le due squadre di Siena e portavano lo sponsor la decisione era politica lì non era nemmeno della comunicazione perciò Davide che non so quale autonomia avesse e devo dire anche qui un passaggio io ero editore all'epoca di un ero coeditore di una rivista di vini all'epoca l'epoca Montepaschi tutte le riviste che erano di zona qualcosa gli dava a me non dettero niente in quell'epoca perché mi disse no sei consigliere ero in Belgio sei consigliere te devi fare una richiesta al Consiglio d'Amministrazione della Banca per accedere ci sta tutto ci sta tutto si si no 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 ma è così la legge devi fare io dissi ma come devo chiedere all'epoca a Mussari in Consiglio d'Amministrazione se mi dà 5 mila euro di pubblicità per il giornale del vino guarda evitiamola cioè non c'era ovviamente è corretto ma per far capire qual era il sistema utilizzato dallo stesso Davide che con lui non sgarrava niente ma conoscere un segreto della banca facciamo qualche ipotesi di segreto perché se no diventa difficile si parla di barzellette qui quindi immagino che la sua ipotesi diciamo lei si sia convinto che si sia trattato di suicidio glielo chiedo perché immagino che lei magari anche insieme alle altre persone più vicine a Davide vi sarete assolutamente interrogati su questa vicenda ampiamente guardi le persone vicine a Davide escluso moglie figlia un fratello sono tutte convinte di questa ipotesi poi magari qualcuno è venuto qui e l'ha detto in modo più diplomatico tipo l'ultima audizione Davide ma a volte ci siamo confrontati nessuno di noi ha dubbi sulla questione ma nemmeno la famiglia aveva dubbi dopo due anni dopo le due archiviazioni ha cambiato idea poi la storia dirà in seguito perché Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi hanno cambiato idea lo dirà in seguito prima o poi la storia lo dirà posso siccome su questo non ci ha detto niente le posso chiedere quando ha avuto la notizia della morte se lei è fra le persone che si sono recate lì diciamo in quelle ore cosa cosa è accaduto io ho avuto notizia il 6 sera intorno alle 23 ero a Sciano 30 km da Siena a cena con mio padre mia madre mio fratello da poco avevo un nipote mi chiamò Mauro Rosati o meglio siccome lì la linea funziona male quando uscì da casa per tornare a Siena abitavo abitavo a Siena il telefonino fece il classico segnale di quello che qualcuno quando ti cerca vedi il numero disse ma all'undici ma che voli Rosati lo richiamai ebbi questa notizia mi fece fare qualche minuto il viaggio al telefono con lui in silenzio e mi ricordo io gli dissi che si fa si va a casa sua no ora non mi sembra il caso sentiamoci domattina eventualmente si va all'obitorio poi vabbè c'è stata tutta la trafila che ovviamente c'è stato l'autopsia cioè passò dei giorni prima del del funerale niente questo una domanda lei ha detto prima che ha conosciuto Aglieco solo successivamente a morte anzi abbastanza recentemente che vi siete anche confrontati perché in qualche modo tirati in ballo nella stessa vicenda immagino che avrà ascoltato la sua audizione le volevo chiedere che idea si è fatto della sua audizione soprattutto nel passaggio che lui fa sul racconto dell'ufficio perché lei saprà se ha seguito un po' le audizioni che alcune delle ricostruzioni che lui fa sono state abbastanza messe in discussione da altri addirittura sempre alcuni esponenti diciamo dell'arma e da altre persone che erano in quell'ufficio allora il colonnello Aglieco ho detto l'ho conosciuto nel 2018 io l'avevo visto nel 2000 l'ultima l'unica volta che l'avevo visto nel 2011 in occasione della vittoria della mia contrada io ero dirigente vicario alle pubbliche relazioni piacere si accomodi alla festa della contrada dell'Oca questa era stata la mia conoscenza di Aglieco all'epoca perciò direi una non conoscenza nel 2018 ci si confronta su questo allora io ho sentito tutta la sua dizione il rapporto tra me e il colonnello Aglieco in questi ultimi anni è stato molto confidenziale sulla questione di quello che stava succedendo diciamo eravamo sulla stessa barca perché Matteo Bonaccorsi due persone soprattutto ha riconosciuto il colonnello Aglieco e Antonio De Gortes ci siamo confrontati spesso anche perché non ci conoscevamo all'epoca gli ho chiesto per battuta Matteo avevi una mascherina perché se no io no nemmeno con maschere di pelle ovviamente gli ho chiesto battute le abbiamo fatte tante il giorno prima di venire in audizione ci siamo trovati con Aglieco a Castiglione della Pescaia perché io ho detto ti voglio risentire ti voglio sentire quello che racconterai fammi sapere quello che racconterai in commissione un incontro di due o tre ore e tutto quello che Aglieco e mi dispiace però dirlo che ha detto nelle prime due ore e mezzo di audizione è tutto preciso non c'è una piega cioè tutto il racconto di come avviene di tutte le cose che non tornano nell'inchiesta delle Iene purtroppo è caduto nel dimenticatorio poi c'è stata la fase delle domande io penso che il colonnello in quella fase era stanco era forse è andato un po' nel pallone non lo so non lo so certamente ci ho parlato dopo l'audizione dicendo che certe cose a me non risultavano nemmeno dagli atti lui mi ha parlato un po' che era un po' confuso forse non era si era scaricato insomma anche non mi è sembrato di percepire delle certezze in quello che poi ha raccontato sul telefonino che ha risposto un PM che poi ha fatti mi sembrano chiari che non è stato così o il cestino rovesciato o che lui fosse proprio presente parlandoci a quattro occhi non mi ha dato quella sensazione e se mi dice là perché l'ha fatto perché secondo me poteva essere anche uno si è confuso dopo tre ore di audizione e magari si era preparato su agli ecos probabilmente si era preparato perché colpito dalla vicenda delle Iene si era preparato tutto sulla questione lì e quando qualcuno è andato a portargli dei ricordi del passato dopo nove anni può succedere che uno non si ricorda precisamente cosa è accaduto tutto qua poi c'è l'onore Migliorino si presidente una domanda libera diciamo e poi il resto tutte segretari e ovviamente grazie presidente grazie signor De Cortes e diciamo che rimango un attimo sulla libera di questa perché lei ha fatto un nome gliel'hanno mandata per messaggio vedo legge il telefonino no 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 ma si prende gli appunti no no non è etero diretto no 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 può darsi no scusi per carattere per carattere no no scusi scusi non è soggetto che si traccia etero dirigere no ma non lo capisco perché anche quando ho parlato quindi mi faccio un attimo di questa piccola disertazione cioè nel senso che l'ultima cavolata sarebbe stata quella della lettera viola il 4 di marzo ovviamente la semplicità la superficialità che magari ha dimostrato con questa frase perché in quel biglietto c'è scritto nelle ultime settimane ho fatto una cavolata diciamo quindi sei purtroppo Davide Rossi muore il 4 marzo su due giorni prima o a meno che Davide Rossi non conoscesse cosa vuol dire settimane e giorni quindi non avesse la concezione del tempo evidentemente lei ha queste sue considerazioni che sono sue che ovviamente la commissione per racconto diciamo ognuno con debito riso quindi detto questo infatti ora mi dice che leggo i messaggi perché no volevo capire per quanto riguarda il dottor Valentino Fanti perché l'ha detto lei no il fatto delle mail del 4 marzo ma lei ha avuto modo di parlarne in qualche occasione con il dottor Valentino Fanti perché l'ha detto lei ecco soltanto per questo rimaniamo un attimo in libera poi con altri nomi preferirei ovviamente della segretata cioè avete parlato di questi mail del 4 marzo no non ne ho parlato è una mia idea dopo che ho letto gli atti lei come ha avuto gli atti? gli atti sono pubblici e come li ha avuti? sono pubblici? su internet va su internet e trova tutte tutti gli atti? no tutti gli atti trova su internet tutte le archiviazioni la prima e la seconda l'archiviazione di Genova l'ha avuta tramite il mio avvocato l'avvocato di Martino che ora è pubblica però quindi lei mi faccia capire le dichiarazioni di Fanti che fa con i PM sono negli atti di è letta in un libro anche dichiarazioni di Fanti cioè poi ci sono altre gli ho detto in quest'anno mi sono molto dedicato e informato ho letto tutto anche i libri di Monteleone però nel senso col dottor Fanti non ha avuto quindi no 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 non ne ha parlato assolutamente l'ho letto negli atti cioè diciamo quindi nel prima diciamo dal 4 e 6 marzo perché allora non c'erano gli atti ovviamente neanche dopo diciamo la morte del dottor Rossi quindi sempre che non c'erano gli atti cioè diciamo nel periodo immediatamente dopo purtroppo la caduta da quella finestra cioè io intendevo questo parlarne in questo modo con il dottor Fanti avete parlato della morte di Davide Rossi io non ho mai parlato con Fanti nell'ultimi ci conosciate con Fanti sì certo ci conosciamo con Fanti dal 2011 ci conosciamo da molto prima dal 2014 cioè da quando io esco dal consiglio di amministrazione della Mont perché lui era comunque poi il segretario del presidente Profumo da quando esco nel consiglio di amministrazione di Montepaschi di leasing non ho più avuto rapporti con Valentino Fanti di nessun genere che tempo era perdono? che tempo era? 2014 aprile 2014 con la chiusura del bilancio della società sono decaduto e non ho avuto più rapporti perché non aveva più un senso non è che siamo amici con Fanti ci parlavo faceva parte del gruppo della birreria Fanti no frequentava? no ok aveva organizzato le cene tipo così sempre con Montepaschi no vabbè qualche che ne so all'occasione del presentazione del bilancio del Monte dei Paschi c'eravamo tutti c'era un 5-600 persone probabilmente anche io e Fanti insieme quindi non avete parlato di queste cose mai allora Presidente grazie Andrea in segretata altre domande da parte dei commissari da svolgere in seduta pubblica nessuna allora passiamo il segretato grazie a tutti 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 grazie a tutti